Mato! L'ho sentito proprio nell'anno! Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Kyle Dolph, io sono Kyle Io sono Dolph e oggi ci troviamo su Laser Lasso Ball Uno dei giochi pixelusi che piacciono a Dolph In cui siamo in una zona da combattimento In questa specie di campo rotondo che ricorda molto tanto il sumo in cui ci lanciamo una pallina uno verso l'altro E niente, c'è questo che sembra... stia scioccando un sacco Un po' tutti scioccano un sacco E dobbiamo rilanciarcela per ogni volta dal centro, è molto più facile da vedere che da spiegare Infatti, iniziamo subito Io sarò quello viola che è molto virile Io sono quello verde Comincia, si comincia! Si comincia Sei pronta a subire il sangue? C'è il colpo, c'è il colpo! Signore! Perché te lo stai... Da notare che per ogni colpo La palla torna Torna, diventa più veloce Oddio Signori ce l'ho scudo Spintarella Spintarella Ricotta Durissima C'è una lucertola nel campo Ma tu L'ho sentita proprio nell'ano C'è l'ansia C'è l'ansia L'ultimo Attenzione che vincerà dei due No Vince Dolph Signori 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 Allora Il primo round L'avvento Dolph Però io direi di continuare Facciamo una Seconda partita Arriva la seconda Come sempre Io sono verde E Kyle è rosa Di un rosato Di quelli Che mamma mia Che mamma mia No Sì Bastardo Mi hai fatto una muraglia cinese Sono giapponese Sono giapponese Io vorrei capire il nostro pubblico da casa Dell'sdf Che ha Seguendo la pallina Madonna 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 L'hai sentito lo scudo Vero Il pressing Il pressing Lo senti vero Signor Kyle Eh Cazzo Non è vabbò Tu stai sempre a uno Sei ancora a rischio No 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 Puttala Eva Calmi Madonna Ma perché finiamo sempre così È proprio l'ansia No And the winner Is Ray Mysterio Beh adesso all'ultima C'è la finale Ragazzi C'è la finale Secondo voi Chi è che potrà viggere Che le Adolf Secondo me è io La classica bella La classica bella Ma le ho recuperate Tutte No Ma siccome Adolf È rinuné in un film E non si chiama Adolf Ziegler Abbiamo finito E vabbè Il nostro Bellissimo Gioco Arato Allora Diciamo che ha vinto Kyle Perché ho il cervello Piuttosto stressato Sì certo È facilmente stressabile Da Kyle è tutto Da Adolf è tutto Alla prossima